Tu ci lanci il malocchio, noi beviamo una tisana al finocchio Uh, noi ci beviamo tisana al finocchio Che buona, che buona se sa di finocchio Noi ci beviamo tisana al finocchio Che buona, che buona Tisana, tisana, tisana Sei meglio della marijuana Tisana, tisana, tisana Riccarda di una brasiliana Tisana, tisana, tisana Stasera io me ne sto a casa Uh, basta Bene ragazzi, bentornati qui sul suo Vabbè non ce la faremo mai per fare un video serio Ma del resto non deve essere un video serio Ciao a tutti ragazzi e bentornati Qui sul mio caccaralla Giallognolo ma oggi è arancione E io, esatto, sono vestito diversamente E io mi spiegherò l'altra volta perché non si lava No, in realtà perché stiamo registrando dopo Ma io sono talmente, insomma, youtuber professionale E ho detto mi cambio la pelta, vero? Assolutamente sì Oggi come avete sicuramente letto dal titolo Forse no perché siete autistici più di me Siamo qui con un incredibile Cosa faresti Ma tutto il video così dobbiamo fare Comunque ragazzi Prima di iniziare Cosa importantissima Passate sempre con il sbaglio Come abbiamo detto settimana scorsa O quando è uscito l'ultimo video Dai nostri social Instagram in particolare Sta scritto qui E appunto nelle schede Trovate il video Che è uscito l'ultimo Molto interessante C'è una scommessa in corso Su quel video Quindi non potete mancare E quindi Quanti like chiediamo per questo video, brother? Ma Visto che comunque Mi sembra sia la prima volta E tu porti un video del genere sul tuo canale Non lo so Sinceramente non mi ricordo l'Alzheimer Ma prego Va bene Io direi 2500 like Famo 3500 Fatevi sentire La prima domanda Giusto per partire sopra Il capore mio Io rido perché Dalla tua espressione Ho già capito che è una domanda disagiante Beh sì Diciamo che è compromettente Perché insomma F. Vitaletti Ci ha chiesto Cosa faresti se Tuo cugino Ti penetrasse O provasse a penetrarti Nel sonno Ma io prima di tutto Toglierei il braccio Perché a questo punto magari Partiamo dal presupposto Che Federico Ci ha già provato diverse volte Mentre dormiva E non direi che ti allontani Cioè io ci ho provato Mentre dormivo? No Io ci ho provato Mentre io Tu ci hai provato Mentre io dormivo E sai confermarlo Ti devo ricordare La scorsa notte? Ah Ma perché c'era Snoop Io mi inibisco così Ecco Io diciamo che Lo faccio Durante il giorno Mentre lui è consensiente Quindi va bene così Andiamo avanti Allora a sto punto bro Cioè Io non volevo farla questa cosa Lanciamo la chip Lanciamo la chip Che chip lanciamo? Alerico o Fedessio? Ah Alerico dai Alerico Fate voi nei commenti O Alerico o Fedessio Is real Cosa faresti Se i calamari Avessero le ginocchia? Eh io Non vivrei più Perché comunque Secondo me Almeno È una cosa Che ti sconvolge l'anima Cazzo è vero Ti vedo proprio È vero Ma sei serio? Assolutamente no Questa invece è una tanda fighissima Vedi un po' Che ci ha chiesto Gaia Allora Gaia ci chiede Cosa faresti se avessi Per una giornata Denario illimitato? Bella questa GTA 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 Stai ragazzi No a parte gli scherzi No perché voi lo farei L'ultimo giorno Solo per una giornata Ha detto Eh infatti E devi sta attento Perché Tu per carità Denario illimitato Ma don't extend yourself Non t'allarga Allora Because E il giorno dopo Non ce l'è più Esatto Io infatti adesso ti dico Allora all'inizio Vabbè mi divertirei a fare il cazzo che voglio Quando si è fatta una cera Inizia ad investire No E dico il contrario Prima Prima Mi ricordi La banda della magliana La cinghia si allenta dopo Il ribanese Il romanzo criminale Tu prima investi tutto E poi Ti sistemi Tutte le cose Tanto non avanza niente Perché è limitato Quello che avanza Esatto Di liquido Insomma Dopo che ti sei Accorto Di aver sistemato tutte le cose E l'hai investito abbastanza Allora Ti diverti Finora mezzanotte Allora Qui cominciamo Con una serie di Congiuntivi Completamente sbagliati Ma ben De tutto E allora Il primo è quello di Alfred Che abbiamo visto anche nel video scorso Cosa fareste Se la tua migliore amica Ti dire Ti 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 dicesse No Grazie 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 Di essere da sempre innamorata di te Bro Ah è sei tu che sei innamorato della tua migliore amica Allora qui Insomma Prezzo lo sforzo Del nostro Eh dai sentiamo Stato Perché questo è proprio brutto Il verbo Cosa faresti Se ti rinchiudessero Un giorno intero Con la Paganie Ma io direi che abbiamo citato Righini prima Quindi Fondaci da clip La faccio uscire che non riesce più a camminare Uh come sei delegato Nel delegato Nel delegato Sono delegato a fare Nel delegato Dani ci fa una domanda che è un trip da solo Cioè un trip secondo me è un po' autistico Ci chiede Cosa faresti se Non avessi paura Sai che in realtà è una domanda Cioè non avessi paura di cose Se non avessi la sensazione della paura in generale Io farei tutto Cioè perché alla fine No aspetta La paura diciamo che anche Un segno di Cioè diciamo che anche uno stop per te Perché se hai paura di fare qualcosa non la fai Di conseguenza se non hai paura di niente Fai le cose più impensabili rischiando perennemente la vita Quindi No Per me no Io faccio la domanda Io invece ti dico che Sono un po' d'accordo con lui Nel senso Io più La ragiono più paura di nessuno Rispetto per tutti paura di nessuno Però è chiaro che una dose di Limitazione personale Cioè uno stop Ce lo poniamo nella vita Non avere paura Vuol dire spesso Non ragionare troppo Prima di fare le cose In negativo però E quindi Avere la presunzione Di non avere paura di nessuno O di niente E quindi Probabilmente Non vorrei trovarmi in questa situazione Proprio per questo motivo Cosa fai? No cosa faressi? No lo è leggo Cosa fai? È un dubbio È un dubbio Cosa fai? Se rimani in blocato Il tuo indicativo Dicevi tu Se rimani blocato in ascensore Per tanto tempo Con una ragazza E poi sottoscrive E se scopri di essere gay Guarda io mi preoccuperei Se tu scopri da solo di essere gay Esatto Io mi preoccuperei Non lo so Io sinceramente mi preoccuperei In caso in cui restassi Chiuso Con una ragazza in ascensore Sapendo di essere gay E quello potrebbe essere Cioè tu potresti scoprire di essere gay Rimanendo chiuso in un ascensore Con un uomo Perché magari guardandolo Ti saranno gli istinti Omosessuali E quindi scopri di essere gay Cioè ovviamente Se rimango chiuso da solo In un ascensore Con una ragazza A Dipende il tipo di ragazza B Che cosa è disposta a fare la ragazza C Se ingoia L'acqua L'acqua Perché se non ingoia l'acqua Poi è disidratata Eh ma l'acqua fa la ruggine Dove è la vodka Esatto E allora ragazzi Diciamo che anche per questo Cosa faresti se Siamo giunti al termine del video Però ti sei divertito Assolutamente Fare i video con te E' sempre un piacere Grande grazie Poi Vorresti dirlo te Perché il canale è tuo Esatto Poi mettere più orche Dopo delle dovere In complimento Detto questo ragazzi Se il video vi è piaciuto Lo aggiungiamo appunto I 3500 leekes Fateci sapere la vostra Qui sotto nei commenti Se vi va Lasciateci qualche altra domanda Seguiteci sui social Come abbiamo detto in questo video Passate in descrizione per tutto Passate per le schede Per andare a vedere i video Che quest'uomo metterà Esatto E niente Bella regà Bella Grazie a tutti